Ciao e benvenuto. Qui puoi vedere l'avvio di Tiremoni TM150. Per prima cosa effettueremo una panoramica, quindi passeremo ad esaminare i singoli passaggi. Il modo più semplice prevede di eseguire i passaggi in questo ordine, come prima cosa. Il sistema viene messo in servizio e configurato. Poi arriva l'installazione sul veicolo. Prima di andare avanti, diamo una rapida occhiata a ciò che è stato consegnato. Dovresti avere davanti a te il dispositivo display, due batterie AAA, una coppia di connettori in velcro autoadesivi, quattro sensori e quattro pile a bottone CR1632, quattro anelli antifurto e una chiave a brugola. Inoltre, è incluso un manuale dettagliato in cui è descritto tutto. L'attivazione avviene in due semplici passaggi. Come prima cosa le batterie vengono inserite nel dispositivo di visualizzazione. Quando le batterie sono nel dispositivo di visualizzazione, puoi già vedere molto sul display. Vengono visualizzati quattro valori di pressione e sotto di ognuno un numero. Questo numero si trova sul sensore. Nell'angolo accanto a ciascun valore c'è un'icona a forma di radio. Si tratta di un dato importante. Se non viene visualizzato, significa che non vengono ricevuti dati da questo sensore. Ciò è quasi sempre dovuto all'esaurimento della batteria del sensore. Ma prima che ciò accada, accanto al sensore associato, viene visualizzato un piccolo simbolo di batteria come avviso. Al centro c'è il display dell'unità di pressione e il simbolo di un'antenna. Questa lampeggia quando vengono ricevuti i dati. Ci sono due tasti sotto la finestra del display. Con il tasto sinistro si accede al menu e alle impostazioni. Con il tasto destro è possibile visualizzare i valori di temperatura dei sensori. L'unità di misura corrispondente appare quindi al centro. Poi si passa al passaggio 2 dell'installazione. Inserire le batterie nei sensori una dopo l'altra. Ora ogni sensore segnala uno dopo l'altro al dispositivo di visualizzazione ed emette un segnale acustico ogni volta che viene rilevato un sensore. Allo stesso tempo, nell'angolo accanto al valore visualizzato compare il simbolo della radio. Naturalmente il valore è ancora pari a 0 perché i sensori non rilevano alcuna pressione. Quando tutti e quattro i sensori sono collegati, è possibile regolare il dispositivo in base alle proprie esigenze. Per fare ciò premere il tasto sinistro per 5 secondi. Il dispositivo passerà al menu delle impostazioni. Per prima cosa deve essere impostata l'unità di pressione. L'impostazione predefinita è KPA e una breve pressione sul tasto destro ti porta all'unità successiva. Puoi scegliere tra KPA, PSI, bar e kg per cm2. Dopo aver scelto, una breve pressione sul tasto sinistro ti porterà all'impostazione successiva per l'unità di temperatura. Usa il tasto destro per scegliere tra Celsius e Fahrenheit. Quindi premere nuovamente il tasto sinistro che porta alle impostazioni della soglia di avviso di bassa pressione per il primo asse. L'impostazione predefinita è 1,79 bar ed è possibile modificare il valore con il tasto destro finché non si è soddisfatti. Raccomandiamo circa 0,2-0,3 bar al di sotto della pressione di gonfiaggio a freddo. L'impostazione successiva, una breve pressione del tasto sinistro, porta alle impostazioni della soglia di avviso di alta pressione per il primo asse. Come prima, utilizza il tasto destro per impostare il valore preferito. Raccomandiamo un bar al di sopra della pressione di gonfiaggio a freddo. Poi vengono le impostazioni per la soglia di avviso di alta temperatura per il primo asse. Segui la stessa procedura. Premi il tasto destro finché il valore non corrisponde. Si consiglia di utilizzare le impostazioni di fabbrica. La successiva breve pressione del tasto a sinistra porta al secondo asse e alla soglia di avviso di bassa pressione. Impostare nuovamente il valore utilizzando il tasto destro. Quindi utilizzare il tasto sinistro per selezionare la soglia di avviso di alta pressione per il secondo asse e utilizzare il tasto destro per impostare il valore. Premi ancora una volta il tasto sinistro e arriverai alla soglia di avviso di alta temperatura per il secondo asse. Regolalo o lascia il valore predefinito. La successiva breve pressione sul tasto sinistro esce dal menu e avrai finito con le impostazioni. Ora avvita i sensori sulle valvole. 1 è anteriore sinistro, 2 è anteriore destro, 3 è posteriore sinistro e 4 è posteriore destro. E trova un luogo adatto nell'abitacolo per il dispositivo di visualizzazione. Usando il nastro in velcro puoi attaccarlo ovunque su una superficie piana. Se lo desideri puoi installare l'antifurto con i sensori. Questo non è un requisito necessario per il funzionamento del sistema. Innanzitutto l'anello antifurto deve essere posizionato sopra la valvola con il contorno rivolto verso l'esterno. A questo punto il sensore è avvitato. L'anello antifurto deve essere premuto sul sensore dal basso e ruotato fino a quando il profilo non scatta in posizione sul sensore, quindi serrare la vite a brugola. Non avvitare troppo, altrimenti si potrebbe danneggiare la valvola. Ora riceverai un avviso ogni volta che la pressione è troppo alta o troppo bassa, o quando la temperatura è troppo alta a seconda delle soglie di avviso scelte. I sensori entrano in modalità di sospensione se il veicolo è fermo per più di 20 minuti. Si attivano di nuovo quando guidi per pochi metri. Il display passa alla modalità di sospensione dopo circa 20 minuti di inattività per risparmiare la batteria. Infine, una funzione che probabilmente utilizzerai molto raramente. Per accoppiare un nuovo sensore, se difettoso o smarrito, devi premere a lungo il tasto sinistro. Dopo 5 secondi appare la modalità di impostazione. Continuare a premere per 5 secondi e il display entrerai in modalità di apprendimento. In questa modalità LN viene visualizzato in tutte e quattro le posizioni. Se ora inserisci la batteria in un sensore, questa verrà accoppiata nella sua posizione, rispettivamente numero del sensore, e il sensore precedentemente collegato verrà sostituito. Divertiti e buon viaggio con il tuo nuovo tiremoni!